Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti alle pesche. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono pesche tagliate a pezzetti, uovo, zucchero, burro, scorza di limone, farina, vanillina e lievito per dolci. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone ed azioniamo il bimbi per quindici secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la farina, l'uovo, la vanillina ed il lievito. ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Trasferire il composto in una ciotola capiente. Aggiungere le pesche ed amalgamare bene. Formare delle palline grandi quanto una noce. e posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per il resto dell'impasto. Cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa o comunque fino a doratura. I biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuovere dalla teglia. Biscotti alle pesche grazie e alla prossima ricetta Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!